Se non fosse stato per la visita dell'aeroparlamentare della Lega Massimo Casanova, seguito questa mattina da tutto il quartier generale abruzzese del Carroccio, una ventina di persone, Fonte Cerreto sarebbe rimasto quel che sostanzialmente è, dall'inizio di questo inverno, un deserto. Entra dunque oggi nel vivo l'iniziativa della Lega per accendere i riflettori sullo sviluppo del Gran Sasso in perenne crisi economica, a partire da Fonte Cerreto, a ridosso della frazione di Assergi e ai piedi del massiccio del Gran Sasso, sino a Campo Imperatore, dove lungaggini legate all'iter degli appalti pubblici creano ritardi nella ristrutturazione dell'hotel, mentre la mancanza della neve ci mette del suo. Pochissimi turisti e gli sciatori quest'anno, un flusso che si attesta intorno a un terzo rispetto a quello dell'inverno scorso, dicono gli operatori. Con l'unico punto fermo sinora, l'estate è la stagione veramente in grado di portare persone. Il problema sta dunque proprio nel rilancio del turismo invernale, parola degli operatori turistici e sciistici, che chiedono ormai da anni alla politica strumenti più agili e agevoli da un punto di vista normativo per governare il territorio montano. A partire dalle riperimetrazioni dei confini tutelati, SIC e ZPS, e a tal proposito il vicepresidente regionale, assessore all'ambiente Emanuele Imprudente, ha chiesto al Ministero di rivedere i confini. Quindi che cosa può fare l'Europa, che cosa può fare il Parlamento che non è riuscito a fare la politica locale? Guardi, io in questo momento sono venuto per vedere e capire un attimo la situazione, sentire un attimo le parole dei nostri imprenditori e del territorio. Poi valuteremo e vediamo un attimo con tutti quanti il mio staff per capire sui fondi europei che cosa riusciamo a fare, cosa potremmo fare per il territorio. La cosa fondamentale per me è capire la situazione, poi dopo di lì si parte con tutto quanto quello che c'è dietro, ci lavoreremo. Avevamo assunto questo impegno, cioè quello di costituire tutti i percorsi amministrativi e legislativi per arrivare ad una rimodulazione dei SIC e delle ZPS. Perché è tutto qui il nodo rispetto al quale il Gran Sasso non riesce a sviluppare e a svilupparsi e soprattutto è tutto qui il nodo per il quale non riesce a partire l'economia. Grazie a tutti.